Stilicone, un generale e politico di origine vandala. Flavio Stilicone, nato intorno al 359 e morto il 22 agosto 408, fu un generale e politico di origine vandala che svolse un ruolo importante nell'impero romano d'Occidente nel tardo IV secolo. Stilicone era figlio di un ufficiale romano di origine vandala e di una donna romana. Fu educato in una prestigiosa scuola di retorica a Roma e, grazie alle sue abilità militari e diplomatiche, fu in grado di scalare rapidamente le gerarchie dell'esercito romano. Nel 394, Stilicone fu nominato Magister Militum per l'Illirico, una delle più importanti cariche militari dell'impero. In questo ruolo, guidò l'esercito romano alla vittoria nella battaglia del frigido contro l'imperatore Teodosio II d'Oriente. Dopo la morte di Teodosio nel 395, Stilicone fu nominato tutore dei suoi due figli, Arcadio e Onorio, che regnarono rispettivamente sull'impero romano d'Oriente ed Occidente. Stilicone mantenne questo ruolo per i successivi 13 anni, durante i quali svolse un ruolo fondamentale nella difesa dell'impero romano d'Occidente dalle invasioni barbariche. Stilicone fu in grado di mantenere l'unità dell'impero romano d'Occidente grazie alla sua politica di collaborazione con i barbari. In particolare, Stilicone sposò Serena, la figlia dell'imperatore Valentiniano III, con Alarico, il re dei Visigoti. Questa unione matrimoniale fu un tentativo di creare un'alleanza tra romani e goti. Tuttavia, Stilicone fu accusato di tradimento da alcuni esponenti dell'aristocrazia romana, che lo accusavano di favorire i barbari a scapito degli interessi dell'impero romano. Nel 408, Stilicone fu assassinato da una congiura guidata da Olimpio, il prefetto del pretorio d'Occidente. La morte di Stilicone segnò la fine di un'era per l'impero romano d'Occidente. L'assenza di un leader forte e capace come Stilicone contribuì all'indebolimento dell'impero e alla sua, definitiva caduta nel 476. Le abilità di Stilicone Stilicone era un generale e politico di grande talento. Era un abile comandante militare, capace di guidare l'esercito romano alla vittoria contro nemici potenti come i Visigoti. Era anche un abile diplomatico, capace di negoziare accordi con i barbari e mantenere l'unità dell'impero romano d'Occidente. Stilicone era anche un uomo di cultura, interessato alla filosofia e alla letteratura. Era un patrono delle arti e delle lettere e contribuì alla diffusione della cultura greca e romana nell'impero, romano d'Occidente. Il giudizio storico su Stilicone Il giudizio storico su Stilicone è stato controverso. Alcuni storici lo hanno considerato un grande leader, capace di salvare l'impero romano d'Occidente dalle invasioni barbariche. Altri storici lo hanno considerato un traditore, che ha favorito i barbari a scapito degli interessi dell'impero. Oggi, la valutazione di Stilicone è più equilibrata. Si riconosce che Stilicone fu un generale e politico di grande talento, che svolse un ruolo importante nella difesa dell'impero romano d'Occidente. Tuttavia, si riconosce anche che Stilicone fu una figura controversa, che fu accusato di tradimento da alcuni esponenti dell'aristocrazia romana. In conclusione, Stilicone fu un personaggio complesso e controverso, che ebbe un ruolo importante nella storia dell'impero romano d'Occidente.